Ciao a tutti, bentornati su Star Wars Galaxy of Heroes Eccomi qua con la simpaticissima Guerra Galattica Il giorno dopo che hanno messo i mod Nella puntata precedente ho fatto una guerra galattica ieri Cioè il giorno prima che partivano le mod E oggi sono partite le mod Quindi voglio andare a vedere che cosa è successo Perché io vi faccio vedere una cosa simpatica Che tipo nelle arene tu dici c'è già gente che ha i mod C'è già gente che ha dei mod leggermente forti Io vi faccio vedere questo qui, questo simpatissimo è l'Omanolo Che ha il suo Anakin, che ha gli RGD Con tutti i mod a 5 stelle, quelli della salute Che gli vanno a dare praticamente 100.000 di vita E voi dite, e lui solamente, ci avrà solamente lui in team Diciamo col cazzo, perché più o meno ce le ha tutti con mod a 5 stelle E quindi diciamo che è leggermente difficile da tirar giù Non so se questo qua anche lui ha qualcosa Qualcosa a 5 stelle Quindi vorrei vedere un attimino cosa succede Così cosa incontrerò adesso nella Guerra Galattica Ma partiamo subito Diciamo che, vediamo Il primo, l'ho visto già qualche minuto fa Prima di partire il video Mi sembra che sono abbastanza tranquilli Quindi io andrei col mio team di violenza Col mio classico team di violenza Non so se mettere Darsidius Andiamo di Yoda Che c'è una OE Rubbo i buff Così Faccio cose Vedo gente Cerchiamo subito di uccidere Qua e Gojin Truc Allora, diciamo che io Cosa ho fatto? Oggi ho fatto Quello che avrebbe fatto Dice, quello che sta Che può fare un free to play Praticamente io ho giocato le mie battaglie Le mie battaglie per i mod O sono arrivato Facendo un rebuy Alla 3G Del Finito praticamente il terzo livello Delle battaglie mod E mi si sono attivate le sfide di mod Se non fosse che anche le sfide dei mod Richiedono l'energia cantina E ne ho potuto fare solamente un paio No Questo Come ho detto La mia preoccupazione Che era, diciamo, nel video precedente Dove Ti costringeranno a fare Un sacco di rebuy Di energia di cantina Che è quella che costa di più Cioè, infatti Il primo rebuy costa 100 Il secondo 200 Il terzo 400 Se non mi ricordo male Non è una cosa Molto simpatica E ovviamente Lo fanno Perché? Perché Ci sono le balene I balenottere azzurre E di tutti gli altri colori Che si sono già moddate Come avete visto nel mio caso Che Io ho preso due giocatori così Cioè Il primo che vi ho fatto vedere Effettivamente l'avevo notato Che era Che era Era leggermente balene Infatti È quasi sempre primo E comunque C'ha tutti i personaggi Chromium Lui ce li ha Perciò Cosa hanno fatto In questo modo Le balene Sono belle tranquille E diciamo Per qualche tempo Non saranno Spodestabili Dai loro troni No? Di primi posti Nelle classifiche Delle battaglie PvP Adesso Non so Se magari Danno Qualche possibilità In più Di andare avanti Ai giocatori Free to play Cioè Che magari Gli danno Aggiungeranno Qualche altro incentivo Ma se così Non succede Io penso Che molta Molta gente Incomincerà A mollare Il gioco Questo perché Come Anche lì Come ho detto Nei miei video precedenti Perché continuano A mettere roba Da farmare In continuazione E sempre Cioè Non Non va bene Specialmente perché Io adesso mi immagino In una guerra galattica Ho avuto Dei Dei miei Compagni Di gilda Che si sono lamentati Di aver trovato Magari gente Con Con i mod Piuttosto che Anche sui forum In giro Comunque Già c'è gente Che si lamenta Che Ho trovato Un nodo Di guerra galattica Il tizio Disumano Che Era impossibile Da tirar giù Certo Quando Puoi avere Tipo Tre personaggi Con centomila Di vita Ti metti Royal Guard Anakin Cavaliere J Di hobby Così E hai Gente Indistruttibile Vabbè Comunque Vediamo Vediamo un attimino Come va Come va Questo qui Hanno aggiunto Un sacco di cose Infatti Poi Farò un video Su Tutte le cose Che hanno Che hanno aggiunto E Il prossimo Dopo questo qui Perché veramente Hanno aggiunto Tante tante cose Anche questo Io non è che la capisco Tanto Perché aggiungere Mille Mila cose E non un pochettino Per volta Per farle digerire Piano piano Ai vari giocatori Perché adesso Hanno aggiunto Questa Hanno aggiunto Possibilità di scambio Degli oggetti Degli item Nelle gilde Cioè Messo La possibilità Dei tagliandi Di fare Le partite Di fila Con i tagliandi In automatico Tre partite Con un solo click Mille Mila cose Però Vabbè Cos'ho detto Questo Ne parlerò Nel prossimo video Un'altra cosa Che hanno fatto Hanno fatto Sicuramente Delle migliorie Grafiche Perché Ho notato Delle migliorie Grafiche Un po' Nelle mappe Un po' In alcune animazioni Sono sempre simpatiche Alla fine Ci sta Ci stanno Quando fanno Queste cose Come ho detto Adesso Vediamo un attimino Com'è questa guerra galattica Almeno dal mio punto di vista Perché poi Comunque Se uno è sfigato E capita Gli capitano contro Bastano già solo due balene Adesso Nei primi giorni La guerra galattica Non si fa Poi ovviamente Poi anche Li sta nei giocatori Vediamo un attimino Se gli conviene Continuare a giocare O no Io comunque Di mio Penso che aspetterò Circa una settimana Più o meno E questo è il tempo Che mi sono dato Per vedere se Come la cosa Come 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 si evolve Man mano che Anch'io adesso Potrò farmare Le varie Le varie mod Che c'è da dire Che Se farmo le mod Non posso più Farmare in cantina E questo mi fa girare le palle Perché mi volevo Farmare Anakin Ma penso che Al momento Lo accantonerò Per Per farmare solamente Le cose Delle mod Le varie mod Andiamo a vedere Questo scontro qui Allora Cos'era Il quarto O il quinto Perché poi dopo Mi sa che mi arriva Lo scontro Quello Quello tosto Come vedete Array Io ho messo Dei mod Quelli che aumentano Il danno Il danno critico Il set mod Da quattro Che aumentano Del 30% I danni critici Infatti Tira delle sberle Che Sono Sono ottimi Ok Quindi dico Se con L'equipaggiamento Che sono riuscito A farmare io Così in poco tempo In un giorno solamente Da free to play Già Ray Ha questo miglioramento Diciamo che Poi non sarà Veramente Un grande problema Magari Più avanti Tirare giù Quelli che hanno I due Tre personaggi Con centomila di vita Ma questo Comunque È tutto Da vedere Come ho detto Una settimana di tempo E poi si decide Uno, due, tre, quattro, cinque Da sesta Vediamo un attimino Oh E già qui Comincia a trovare I personaggi Con i mod Vediamo un po' Solo Duku Adesso Vabbè Ray ovviamente E qua è Gojin Ok Vediamo Quasi Quasi Scusate Provo Proverò Proverò Un giro Così Per testarli Poi al massimo Mi ritiro Già Quanto Ci hanno di vita Mi sta sulle palle Urco Canne Che schiaffo Allora Tre Sei 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 Otto Chissà se L'ammazzo Non penso Perciò Deve attaccarla Proprio Ray Con Il suo Colpettino Ok A posto C'ho così Poi Do Tutti Buff Della Schivata Correi 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 Attacco Così Perché Qua Gojin Mi fa avere Il buff Track Perfetto Io Adesso Attaccherei Duku Prima Schivata Questa Lo becca Perché Duku Fa due Attacchi In due Momenti Diversi E quindi La schivata In questa Maniera Non serve Funziona Funziona La Come si Chiama La preparazione Funziona Con un attacco Tipo quello Di Qua Gojin Che Chiama Un assist Che quindi Ve li scriverà Tutte e due Ma non in altri Casi Se io Adesso Gli faccio Un attacco No Non gli tolgo Via abbastanza Vediamo se riesco A togliere via Un po' Di barra Lei Così agisce Prima La mia Ray E vediamo Se l'ho Sciotto No Ma non ha Fatto critiche Certo Vabbè Però adesso Dovrebbe morire Ma Madonna Diciamo niente Va Che poi dopo Le bestemmie Volano Ci sto mettendo Un po' Però Piano piano Stanno scendendo Quindi Non è un grosso Vediamo se l'ho Sciotto così Track Vedi Funziona sempre Se non funziona Il primo giro L'ho sciotti al secondo Vai Allora Diciamo che questa Come battaglia Che schiaffetto Che gli ha tirato Infatti qua Egojin moddato Rompe un po' Le palle Però anche Ray moddata Che tira Gli schiaffi così Dunque Adesso la uccido Veloce Perché metto In campo La luminara Per fargli Recuperare la vita Al mio robot Al mio droidino Andiamo Questo Allora Se questo È quello Diciamo Delle tre La più fa Perché comunque Al 6 Al 9 All'11 All'11 È il più difficile Già qui Incominciamo A trovare Cazzi Sarebbe Una cosa Simpatica Se le AI Fa Che Diciamo Nei nodi Facili Tolgono via In moda Alle Ai team Avversari Almeno Per Diciamo Renderli effettivamente Facili Non che ci devi Consumare Tre o quattro Personaggi Adesso Andiamo Così Facciamo Così Così Metto Il mio Fasma E Vediamo Un attimino Questi qua Vabbè Ammazzo Cerco subito Di ammazzare Ray Perché Quella Che mi può dare Un po' più Fastidio Poi faccio Così Andiamo Su Sidious Tuc Tuc Morto Sparo La cura Della luminara Per sicurezza Perché se agisce Il droide Qua Mi rompe Un po' Le palle Però forse Lo riesco Che mazzate Che sono Cioè Due secondi Mazzate Mazzate Che volano Così Vediamo se Gli riesco A fregare Ok Gli elimino Il buff Così Tac Adesso Vediamo Se mi riesce Ok Mi recupera Un giro Qua Il gojin Questo è Il nodo 7 Quindi ho Ancora Il prossimo Per recuperare Un pochettino Vediamo Anche qui Non dovrebbero Eserci Cose Gente Moddata Con cose Impensabili No Qua Vado Subito Per Sidious Perché Non mi deve Togliere Via Non mi deve Applicare Il debuff Poi Vediamo Vediamo se Lo riesco A stun Schifato Vabbè Lasciamo stare Va bene Così Dai Buttato Nel cesso Adesso Lui si attiva L'abilità Ma Perfetto Che mi Attaccano No Non mi Attaccate Qua Gojin Per favore Che Uh Track Mi rimane Ancora No Cazzo Questo Questo è un colpo Basso Eh Ahsoka Eh Un colpo Molto Molto Basso Maledetta Eh L'illuminale Non c'è Ancora La cura E quindi Faccio così E Vediamo Che team C'ho contro Tanto Tanto il primo giro Gli mando contro La squadra suicida Lo so Adesso Vediamo Questi qua Questi Senza mod Cioè Era Mi dite Che Eccolo Vediamo Questa guardia reale Quanto ha Ma 50 Solo Ma vabbè Che sono quelli Piccoli Da un pallino Di Tier 1 Vediamo Se Qua Gojin Gli ha messo Qualcosa Vabbè Allora Qua però Io lo mando Il team suicida Tanto per essere Per essere Sicuri Gli mando Un team Un po' A caso Così Quando lei Gli ha messo Giusto per fargli Buttare Gli stun Di Dooku Meno un colpo Direi Perfetto Tazzo Non mi fa Non mi fa Lo stun Va bene Anche Tacco Con l'assist Di Qua Gojin Vediamo Un attimo Se riesco A fargli Un minimo Di danno Ottimo Oltre Ogni Rose Aspettativa Attenzione Andiamo Un po' Di bombette Che non fanno Mai male E questo Vediamo Papapapapapà Iata Adesso 2004 Gli ha tolto Il cocane Dai Qua Gojin Fammi La sba Perfetto Così si è bruciato Tutto Adesso Allora Vediamo Un attimo Facciamo sempre Mettiamo Fasma Leader L'alluminata Lui Metto Tipo Per Dispellare E Avrei Ok Vediamo Un attimino Va benissimo Non so Se l'ha Shotto Così Va bene Adesso Diamo L'immunità A tutti Sacchete Poi Ti tolgo Io il Tourmiter A Doku Porca Puttana Schiva Maledetto Madonna Quanti mi fai Inchezzeri E Schivano Tutti Ma Cazzo Eh Un piano Un piano Perfetto Era un piano Perfetto Però Ovviamente Figurati se funziona Togliamo via un po' di barra Proviamoci No eh Va però Togliela tolta via Tibo Così Muori Perfetto Questi 21.000 Mi fanno veramente male E questo forse fa anche più male Mamma mia Che rischione Adesso Sudoku Andiamo con questo Almeno Non risponde Perché Se sei steltato Non ti risponde E Andiamo un pochettino No Non lo uccide Era perfetto Eh Non so se Lo mando In barra gialla E mi sono Madonna Che coglione Mi sono bruciato L'elimina buff Di Di tipo Che coglione Vabbè Vabbè Lo uccido Così Di giustezza Che cosa brutta Allora Andiamo un po' Me l'attacca Me l'attacca di nuovo Se io però Non lo uccido Correi Quindi Sparo l'attacco Cosa la guardia reale Ah Bastardo Madonna Diciamo un po' Questo è difficile Allora Vediamo Vi uccido La luminara Ma Faffanculo C'è Questa Continuata Ad attaccarmi La luminara È proprio Se ne fotti Di tutto il resto Ti ammazzo La luminara A ogni costo Madonna Vabbè Facciamo così Però che palle Non si può Non si può Però giocare Tutto sto Tempo Per una Cazzo Di partita Adesso Muori Che Cazzo Certo Mi scrivo Schiva tutto Mi raccomando Adesso Mi attaccarei Ok Meno questo E così è morto Adesso Devo trovare il modo Di curarmi Qua Il gogino E penso che Lo curerò Con Talia Metto dentro Talia Prossimo scontro E via Vediamo Sempre che non hanno Mille mila mod Togliamo via Lui Mettiamo Talia Io Talia Ho il console Egedi Però Talia è Men Che Non so Sicuramente attaccheranno Prima loro E me l'ammazzano E quindi Devo poi Resettare Lo so Uuuuh Ammazzate Allora Va bene Uuuuh Bello Questo Tac Tac Cura D'Italia Alla grande Mi fa un culo Sta cazzo Di guardia reale Deve Solo esplodere Del resto Non mi interessa Certo In un modo O nell'altro Me lo dovevano Uccidere Lo sapevo Ok Non so Non so se Rifarla La partita E cercare Sempre di Portarmi Via Qua E Gojin Ad un livello Decente Eh perché è dura Che Essendo al decimo Poi dopo Mi trovo sicuramente Contro dei mostri Che Me la vanno a mettere In quel posto Quindi Facciamo così Gli mando Contro un team Suicida Così Tanto per gradire Con Così 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 Quindi Vi faccio scaricare Meno l'attacco Del soldato Che è un osiano Quello è proprio Quello che mi ha Rotto i coglioni Dai Tac Morto Perfetto Perfetto Bravo Io Vi faccio Un po' di danno Così Poi Il porcellone Qua Tac Tac Cazzo Cazzo Mi metto In difesa Che tanto Mi muore Dopo un turno Bravissimo Oh Così Mi hanno bruciato Tutte le cose Che mi potevano rompere I coglioni E Vediamo Un attimino A mettere I personaggi Di prima Se Evito Di morire Come un pirla Mh Vediamo Talia Talia No Talia Talia che cura di più Alla fine Ok Ok L'inizio È più o meno Sempre uguale Quindi Così Così Quante mazzate Ok Lei cura Perfetto Così Così Io attacco La guardia Non mi interessa Qua curo Tutti Ovviamente Mi sacramorosamente Come Come Però Alla fine Sto cazzo Di qua E Gojin Me lo devono Uccidere Per forza In un modo Nell'altro Mi morirà Perché sto giro Madonna Quanto mi fa Incazzare Che palle Mi muore pure Yoda Senti Facciamo così Allora Vaffanculo Vaffanculo Così Così E andiamo Di simpatia Che mi Pigliano La guardia Reale O meno Si Va Di danno E via Sì Sì Bravo Bravo Attaccami Bravissimo Ah Certo Siamo così Proprio Di violenza Pesantissima Così Bam Bam Mamma Poi dopo Non si Deve rompere I coglioni Esplodi Luco Tu non ti preoccupare Sei il prossimo Tu non ti preoccupare Sei il prossimo Che se no Che se no Non vado più avanti Ci metto una vita e mezza Almeno così Tanto mi doveva morire O Yoda Qua E gogin Per verità che mi muore Yoda Vediamo adesso Vediamo adesso che incontro Questi Questi non hanno neanche un mod Porco cane Guarda che è presa per il culo Madonna Adesso Facciamo così 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 Non metto qua Anzi Metto qua I gogin Però sto giro Se metto Talia Avrei un attimino Più di tempo Per curarle Allora Facciamo così Più che Talia Mettiamo il console Jedi E vediamo un attimino Come fu Certo Missato clamorosamente Uff Mi è andata proprio Di culo Disumano Sì Tanto culo Perché adesso C'ho il tempo Di far così Cazzo Non mi ha bloccato Quali così Però Questo Non è Non è una cosa Buona Sì Brava Che fa Mi piace Attacchi Che mi piacciono Ah Cazzo Gli ho tolto Via troppo Madan Vabbè Fa niente Adesso mi dispella Però Alla fine Gli ammazzo Sta guardia reale Almeno Non deve Ompermi i coglioni Però dovevo Attaccargli Dovevo attaccargli La sua simpaticissima Rei Sempre tre volte Attacca Mai di meno Due Solo due Va bene Va bene Un po' La uccido Ah Meno male Adesso Perché sicuramente Dato che questo team qui Non era forte Adesso incontrerò Un team della madonna Che è normale Eccolo Vediamo Il team ribelli Con Lando Che palle Però anche qui Questa comunque è strana Cioè Ho visto gente che si lamentava Che trovava Trovava i mostri No Io Io c'ho ancora un sacco di personaggi Vabbè Questa è diciamo È una mia fortuna Avere tutti sti personaggi Da poter Da poter schierare Diamo così Faccio un po' di danno Anche se loro saranno Eh cazzo È vero che loro sono Super veloci Eh però Già che mi partono Che Ian Han Non ha Il simpaticissimo Ah Eccolo Sembrava strano Che non aveva la UE Adesso arriva Il primo attacco Cazzo Non me lo potevano fare Ok Boh Almeno ce l'ho In In taunt Adesso Acquara ha già tolto Di una volta i buff Quindi questi qua Se li tengono Per un attimino Boh A posto Adesso Che sono un pochettino Più malleabili Diciamo che così Avendo il vecchio Ben Che può agire Se non me lo ammazzano Se non me lo ammazzano prima Però io vado subito Su di Neila Che muore Male Malissimo muore Ok Mi ha sparato Il rimuovi Il rimuovi di buff Ci diamo lando E da qua E' da qua E' da qua Posso andare tranquillamente Una volta Ancora E diciamo che Questa partita Finisce così In questo simpaticissimo Modo Però E' durata tantissimo E' durata E' durata molto di più Ancora più di prima Le guerre galattiche Per fortuna Che non ho trovato Troppa gente Con i mod Perché quando poi Incominceranno a mettere Anche Le partite facili Dove mi mettono I team Che hanno dentro i mod A quel punto lì Diciamo che La guerra galattica Ci si metterà Un'ora E passa per farla E' tutto molto simpaticissimo E' tutto molto bellissimo Però se ci metti Un'ora E' più Per fare la guerra galattica Più tutte le altre cose Se Si sarà costretti A giocare Più di due ore Su questo gioco Io penso che A quel punto lì Me ne andrò E lascerò andare Però come ho detto A una settimana La lascio passare Se vi è piaciuto Questo video Mettete mi piace Iscrivetevi al canale Io Vi aspetto al prossimo E come sempre Ciao ciao